Inizia oggi alle 15.30 la cittadella dello sport di Martignano, una settimana di lavoro intensa per il Lecce, atteso dall'impegno nel primo turno della Coppa Italia dei Lega Pro contro il Matera e da quello in campionato con il Monopoli in posticipo serale alle ore 20 con diretta su Rai Sport. La truppa giallorossa, archiviata alla vittoriosa trasferta di Melfi, è chiamata a dare ora a continuità ai due successi di fila coincisi con l'arrivo in panchina di Piero Braglia. Il tecnico toscano sembra aver dato la giusta scossa ad una squadra apparsa più cinica, anche se scarsamente propensa ad offrire un calcio godibile. La concretezza è però la sola ricetta in grado di dare frutti tanto attesi da società e tifosi dopo che la posizione in classifica dei giallorossi iniziava a farsi imbarazzante per un club che non nasconde certo le proprie ambizioni di risalita in Serie B. La gara di Coppa sarà utile per dare minutaggio a quegli elementi che magari finora hanno giocato meno e che ancora non hanno avuto modo di mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore. Inoltre lo staff medico deve valutare le condizioni di Alessandro Carrozza che al Melfi non è sceso in campo in estremis per un problema fisico dove pur figurava nella distinta tra i titolari. Restano invece ancora fermi i box i due lungodegenti, Juan Surraco e Davide Moscardelli, i cui tempi di recupero, si sa, sono purtroppo ancora lunghi.